La prima dice il passato, la seconda carta dice il presente e la terza carta dice il futuro. Ecco, queste carte sono positivi. E l'ultima carta dice che sarà interessante contatto, interessante amicizia, interessante amore. Non dice sposata. Il futuro sarà più interessante, più misterioso, con avventuri, con secreti. Giocano tanti e provano nuove cose. E possono fare comunicazioni telepatiche. Si capiscono senza parole. Questa la relazione sarà più interessante con grande fuoco come adesso. Grazie. Grazie.